Salve bellissimi, finalmente, un attimo mi sono incastrato, finalmente ci siamo, siamo tutti quanti in hype per il Brawl Talk che sta sopra un cielo notturno, stellato, lune, cose mistiche lasciate un like se siete in hype, iscrivetevi, è fondamentale, quasi un milione e mezzo attivate la campanella e ovviamente codice Crax per tutto quello che vedremo all'interno di questo video l'ultimo Brawl Talk è stata una marea di skin, roba jamming, quindi codice Crax reazioni insieme, non mi aspetto chissà quale Brawl Talk perché ovviamente viene post vacanze estive io vado a fare la reaction se parte, ma non stiamo nelle fiabbe ci stanno i sottotitoli eh gag tattica ma quello è il gran cavallo di Clash Royale il narrator was always right and welcome to Brawl Talk Ryan c'è sta sempre ma che è? ben secchio, ben gestino Royale ah regà, quello è lo scopettino presente sul teaser di ieri, impazzisco penso sia il nuovo brawler cromatico c'è pure lo shieldino che è... no c'è la pattumiera regà, impazzisco una montagna di immondizia stagione 8 stagione 8 stagione 8 praticamente è una sorta di Frank colpisce con la scopa e fa l'onda d'urto l'onda ferisce i nemici nella traiettoria e ricarica l'indicatore della rabbia infatti c'ha una sorta di indicatore sotto ok anche quando subisce danni quando sta al 100% i topi! pazzisco sulla super cioè praticamente diventa più forte tipo surge con le super lui colpisce e viene colpito e diventa più forte e più veloce da quanto ho capito molto interessante, molto bello bellissima cavolo ragazzi un bel pass eh due skin molto molto belle però quanto durerà questo pass? cioè arriverà oltre Halloween quindi non abbiamo un pass inerente ad Halloween non ci stanno skin come Trixi Colette l'anno scorso magari uscirà il giornamento di mezzo non lo so carinissimo ma sono tutte bellissime e per Prince Sprout e El Dragon puoi anche trovare due variazioni colori in il shop Emerald e Ruby Prince Sprout El Dragon Verdoso e El Dragon Rosado e la ultima skin tocca a scioppa tutto buona questa è Power League ti prego dimmi di sì 30 win invece che 50 dai già un qualcosa di meglio ci può stare skins we are getting Lunar Piper for the Moon Festival in Asia and Handsome Colt just because why not? solo perché è gazzu now we are not getting a new game mode per se but something similar yes we want to try a new kind of solo showdown which encourages a more aggressive way to play the more brawlers you defeat the more trophies you get we will be testing this new solo showdown mode and we will compare with the old one our goal is to get rid of teaming and make this mode more fun and this new solo showdown potrebbe essere interessante perché in questo modo verrà tolto totalmente il teaming il teaming serviva per arrivare a fine partita e prendere le coppe ma dato che qui devi fare le coppe con le kill puoi andare a killare il tuo compagno e prenderti la coppa ci potrebbe stare ci potrebbe stare ok tutto dedicato comunque al momento pass e modalità è una madre di schiena attenzione in uno dei prossimi updates we are planning to release a serie of improvements for the clubs we are giving clubs a bigger and better purpose and we are developing something that will bring clubmates closer together however for this feature to work we will have to resize the club capacity from 100 to 30 so guys we want to give you a head tap so you can rearrange your clubs having this new capacity in mind if you can't find a solution until the update we will do it for you so stay tuned to our social channels and then we will post information there before the actual update we don't have a conformed date for this change yet but it will happen in the next few months so you have at least 30 days to make adjustments for your clubs on your own cioè scusate non ho capito nei prossimi 30 giorni non c'è ancora non c'è ancora data precisa ah nei prossimi mesi cioè quindi non è detto che esca all'interno di sto pass che ancora non sappiamo quanto durerà avete almeno 30 giorni di tempo quindi di sicuro minimo 30 giorni speriamo ragazzi esca prima di Halloween bello ragazzi 10 miliocini ma l'annunciano l'unico prossimo solide gag ragazzi insomma no Danny io sto cercando di capire dovrebbe essere terminato credo ragazzi che vi dico brutal talk che ci può stare è interessante ovviamente parliamo di brutal post estate però è il classico brutal talk di sempre cioè nuovo pass obbligatorio nuove skin allora se da qui al prossimo pass uscirà l'aggiornamento di mezzo ha senso ma se sto pass dura 70 giorni e ci ribeccamo alla fine veramente tosta perché ci sta ancora meno roba dell'aggiornamento precedente e quello prima ancora cioè ci stanno meno skin meno modalità non lo so comunque l'ambientazione è spettacolare quella del castello sicuramente il pass è molto buono fatemi sapere cosa ne pensate ah giusto con questo brawler arriviamo precisi a 50 brawler lasciatemi un commentino secondo voi è quello che serve al gioco vi mando un kiss codice grax like iscrizione campanella soprattutto iscrizione campanella se volete tutto quanto nel dettaglio su questo canale magari con gigi qualche simpik vi mando un abbraccio ciao belli ciao ciao ciao